Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome di AIST a questo webinar. Buonasera a tutti, vi ringrazio a questo webinar. Un evento formativo ed informativo sulla genetica della sindrome di Tourette. Vi ringrazio a nome del team di AIST per essere sempre così numerosi. E con noi questa sera, Peristera Pashu, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Purdue, West Lafayette nell'Indiana. And tonight we have the honor to have as presenter Professor Peristera Pashu, who is professor La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genomica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. La professoressa Pachou ha ricevuto nel 2019 un riconoscimento per i suoi eccellenti risultati nella ricerca genetica. Grazie mille per questa presentazione. Grazie mille AIST per avermi invitato a parlarvi di quelle che sono le basi genetiche della sindrome di Tourette. Per me è un grande onore. So I would like to start with this quote by Aristotle, being also Greek in origin. Individually we contribute little to the quest for truth, but working together the whole vast world of science is within our reach. Vorrei iniziare con questa quotazione proprio del famoso greco Aristotele che ci dice esattamente da soli individualmente diamo un scarso contributo alla ricerca delle verità, ma lavorando insieme l'intero mondo della scienza è a nostra portata. And this is just to say that all the great progress that we are witnessing in the field of Tourette's syndrome genetics is very much thanks to the worldwide collaboration of many scientists from around the world, and also to the contributions of thousands of patients and their families to these studies. E questo per dire che se siamo arrivati a progredire nello studio e nella scoperta di quelle che sono le basi genetiche della sindrome di Tourette, è grazie alla collaborazione e al lavoro di numerosissimi scienziati da tutto il mondo, ma non solo scienziati e ricercatori, ma anche migliaia di pazienti e delle loro famiglie che si sono messi a disposizione per raccogliere sempre più dati. So I don't need to say a lot about what Tourette's syndrome is about to this audience, but I just want to mention that Tourette's syndrome is indeed very heterogeneous and a very complex phenotype with different symptoms for each patient. Indeed, no two patients are alike. Non devo specificare a un pubblico di conoscitori come siete voi che cosa significa la sindrome di Gilles de la Tourette, ma posso semplicemente sottolineare quanto siano diversi i fenotipi che caratterizzano questa sindrome, tanto che nessun paziente è uguale all'altro ed è una sindrome che si manifesta con sintomi molto diversi. E questo rende ancora più difficile il nostro lavoro di genetisti. Quindi sebbene la sindrome di Tourette sia da un punto di vista fenotipico molto eterogenea, è una delle sindrome neuropsichiatriche non mendeliane più ereditabili. L'ereditarietà è la metrica che ci dice quale porzione di rischio fa sì che una patologia sia trasmissibile sulla base genetica, quindi sulla base del nostro patrimonio genetico. And for Tourette's syndrome, indeed, heritability is very high. It has been estimated between 0.77 to up to 0.85 in the general population. Ed effettivamente l'ereditarietà è una delle caratteristiche molto presenti e molto elevate nella sindrome di Tourette, tanto da arrivare a una percentuale dello 0.77 fino allo 0.85. Inoltre sappiamo che il rischio di contrarre la sindrome di Tourette in combinazione a disturbi di tic cronico è aumentata di 15 volte nei fratelli e sorelle di pazienti che hanno la sindrome di Tourette rispetto a quella che può essere la popolazione generale. So, this means that genes have a lot to do with developing Tourette's syndrome symptoms and mutations that may cause, may play a role in the onset of such symptoms may be inherited by parents or they may be novel. They may appear for the first time in patients with the disorder. Quindi questo significa che i geni sono direttamente interessati nello sviluppo dei sintomi della sindrome di Tourette e il ruolo che possono avere le mutazioni genetiche è direttamente correlato all'insorgenza di sindromi. Ma queste mutazioni genetiche possono derivare sia dagli stessi genitori, quindi come carattere ereditario, sia anche come una nuova mutazione genetica che insorge nel soggetto affetto dalla sindrome di Tourette. So, this means that we are looking for many different kinds of mutations that may play a role. And based on the high irritability that has been estimated for Tourette's syndrome, we initially thought that we were looking for only one major gene or a handful of genes. Quindi le nostre ricerche si basano sull'individuare quale tipo di mutazioni possono avere un ruolo. E data la natura altamente ereditaria della sindrome di Tourette, pensavamo che le nostre ricerche dovessero orientarsi a un unico gene o a una manciata per così dire di geni. So, in the early 1990s, we spent a lot of time working on such large families with many patients with Tourette's syndrome. So, here a circle is a female and the square is a male and the patients are represented as solid squares or solid circles. And you can see many generations that have patients with Tourette's syndrome in a single pedigree. e così negli anni 90 ci siamo dedicati a studiare queste grandi famiglie con molti casi di sindrome di Tourette. In questa immagine vedete con il cerchio rappresentato dei soggetti femmina, con il quadratino invece dei maschi e quelli diciamo in grassetto con sia il cerchio che il quadratino pieno rappresentavano le famiglie. Potete vedere quanto numerosa era l'insorgenza di la sindrome di Tourette in queste famiglie. But as we started studying these pedigrees, so already more than 20 years ago, we realized that we could not identify a single gene. So, we now know that the Tourette's syndrome is actually multigenic and multifactorial. So, there are multiple genes that play a role and these genes interact with the environment to lead to the onset of symptoms. So, this means that we are not looking for a single gene, we are looking for multiple genes and different combinations of these genes may lead to different clinical symptoms. So, to identify genes for these complex disorders, what we do is we focus on the parts of the genome where we each differ from another. So, as humans we are all more than 99% identical when it comes to our genome. However, obviously there is a lot of variation and these points of variation are what lead to all the diversity that we see in human populations from around the world. And we can interrogate, we can study these polymorphisms because we have access to the whole sequence of the human genome. This was published for the first time in 2001. So, the first publication of the human genome was back in 2001, but actually only a couple of weeks ago did we get access to a complete gap free sequence of the human genome. So, this is the latest development. Certo, it was published for the first time in 2001, but only a couple of weeks ago the study that brought to the knowledge of the human genome sequence without any gap, without any lack. For the first time it was completed in an exhaustive way, two weeks ago. So, we focus on genetic variation to try to identify genes that cause disorders and single nucleotide polymorphisms, SNPs, are the most common form of genetic variation. So, SNPs are positioned in the genome where we may find two different variations at the population level. And just so you can follow the studies that are related to Tourette's Syndrome better, I will provide some information regarding the structure of SNPs in the human genome and how we design genomic studies for complex disease. Quindi, per darvi l'idea di come si arrivi allo studio di queste malattie complesse, vi darò delle informazioni su quello che è la struttura del genoma umano e come si sia arrivati a quindi a mapparlo per studiare la causa delle diverse malattie complesse. So, the first thing to know about SNPs is that when we study SNPs, the top signature has to do with the ancestry of the individuals that are studied. Innanzitutto, quando si studiano questi polimorfismi a singoli nucleotidi, gli SNPs, dobbiamo innanzitutto vedere alla cima in alto questi quelli che sono gli aspetti comuni con i nostri antenati. So, for instance, here we have genotyped 600,000 such SNPs over multiple individuals from 93 populations and when we plot this data on the top three dimensions, we get this image that looks like a map. Per esempio, arriviamo a questa immagine che è simile a una mappa dopo aver studiato questi 600,000 SNPs di marcatori genetici provenienti da 93 popolazione e si riesce così a rappresentarli in una sorta di mappa. Quindi vediamo che si creano dei percorsi che collegano l'individuo a partire dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Europa, dall'Asia, all'America e al resto del mondo. So, this has to do with how humans have evolved and this genetic structure actually helps us identify genes for Tourette's syndrome and other complex disorders. E questo ha a che fare su quella che è stata l'evoluzione della specie umana e proprio questa mappatura ci aiuta a ricostruire quelli che sono i geni responsabili della sindrome di Tourette. Quindi arriviamo a quella che è l'origine degli esseri umani che hanno cominciato innanzitutto a identificarsi anni e anni e anni fa in Africa. And then moving from there, humans colonized the whole world. I tali sono arrivati a colonizzare l'intero mondo. E queste migrazioni sequenziali sono direttamente riflesse sulla struttura del nostro DNA. E questo è rappresentato anche dai colori, più sono i colori, più sono le diversità, le variazioni genetiche. Questo è in essenza la modalità in cui progettiamo, studiamo questi studi genetici. E noi crediamo che ci sia una relazione tra tutti gli esseri umani. E ogni malattia che causa delle mutazioni si sono verificate almeno una volta in un gene di un nostro antenato. E pensiamo a queste mutazioni che sono trasmesse da una generazione all'altra ed ogni volta che un cromosomo, una variazione cromosomica, passa da una generazione all'altra, questa si suddivide. Si ha come una rottura di questa variazione. Ricordate che per identificare una mutazione che è causa di una malattia complessa, noi utilizziamo gli SNPs. Quindi noi utilizziamo questi SNPs per identificare le mutazioni e andremo a ricostruire questi SNPs in quel cromosoma ancestrale che non si è rotto nel passaggio da generazione a generazione. E questa è fondamentalmente la base che sta agli studi associati all'intero genoma, che come acronimo sta per GIVAS. E questo è uno studio che coinvolge migliaia di pazienti che sono stati comunque comparati a uno stesso numero di migliaia di controlli. Quindi noi tipizziamo milioni di SNPs e li compariamo tra pazienti e controlli. Oltre a GIVAS abbiamo anche la possibilità di sequenziare l'intero genoma. Il primo genoma che è stato pubblicato nel 2001 ha richiesto ben un investimento di 3 miliardi di dollari e 10 anni di lavoro. E adesso invece per sequenziare un genoma il costo va da 600-700 dollari e si parla addirittura di un costo di 100 dollari a genoma. E questo significa che possiamo progettare degli studi su larga scala proprio per il sequenziamento del genoma. Per esempio questo significa molteplici genomi come il progetto dei mille genomi. E questo comprende anche progetti come il progetto chiamato All of Us, tutti noi, che ci consente di avere dati sul genoma di un milione e oltre di persone. E per esempio il progetto UK Biobank che ha aiutato molto per scoprire dei dati importanti sulla sindrome di Turetta raccoglie dati di 500.000 persone. Ora torniamo un po' a vedere come tutto questo fa riferimento e si relaziona alla sindrome di Turetta. Quindi stiamo parlando di una patologia definita complessa. Quando si deve studiare appunto l'architettura genetica di una patologia complessa dobbiamo pensare a quelli che sono gli alleli comuni e non comuni. Abbiamo quindi sulla asse delle X la frequenza di queste variazioni, quelle che sono più comuni e quelle che sono invece rare o molto rare. E poi sull'asse delle Y abbiamo la penetrazione, vale a dire qual è l'effetto di quella variazione genetica sull'insorgenza di un sintomo piuttosto che di un altro. Da una parte dello spettro, un'estremità dello spettro, abbiamo le sindrome, le malattie mendeliane che sono causate dalla variazione di un unico gene. Mentre all'altra estremità avremo quelle che sono i disturbi causati da molteplici variazioni comuni e poi abbiamo nel mezzo quello che sta appunto in un grado intermedio. E abbiamo utilizzato il GVAS, il Genome Wide Association Study, per studiare quelle che sono le variazioni comuni che si verificano nella sindrome di Tourette. Mentre se dobbiamo studiare quelle che sono le variazioni genetiche rare che però hanno un ruolo, dobbiamo far riferimento agli studi di sequenziamento degli exomio dell'intero genoma. Nel 2013 è stato pubblicato il primo GVAS per la sindrome di Tourette. E si è trattato di circa 1200 casi comparati con circa 4900 controlli nei quali si è studiato 485.000 SNPs per analizzare e vedere. La idea era appunto quali erano queste variazioni. Ma in questo studio non è stato riscontrato una variazione genetica che potesse avere un significato statistico. But this was a first step and it pointed in the direction of multiple genes that are expressed in the frontal cortex or the cerebellum, so the central nervous system. Però è stato il primo passo per capire come molteplici geni coinvolti nello sviluppo della corteccia frontale del sistema nervoso centrale fossero coinvolti nella sindrome di Tourette. This, the second stage GVAS, which followed up that initial study, was published in 2019. This was a collaboration between my lab, Jeremiah Scharf at Harvard University, Carl Matthews at UCSF and Giovanni Coppola at UCLA. So this was a study of more than 4.000 patients with Tourette syndrome and about 8.000 patients. Uno studio che ha coinvolto oltre 4.000 casi di sindrome di Tourette con quasi 8.500 controlli. E abbiamo così trovato il dato, il primo dato significativamente, statisticamente significativo per la sindrome di Tourette. This is called a Manhattan plot. E questo viene chiamato il diagramma di Manhattan. The x-axis corresponds to all the different genetic variants, all the different SNPs that we analyzed. Sull'asse delle x abbiamo gli SNPs che abbiamo esaminato, quindi tutte le variazioni genetiche. And the y-axis corresponds to the level of significance with the red line showing our threshold. E poi invece sull'asse delle y abbiamo il significato statistico con la soglia rappresentata dalla linea rossa. And we're hoping to see many peaks, sort of like the skyline of Manhattan, and that's why this is called the Manhattan plot. E speriamo di vedere sempre più picchi in modo da poter davvero avere un'immagine dello skyline di Manhattan, è per quello che è stato chiamato così il diagramma di Manhattan. E quindi il nostro risultato è quello di aver identificato il gene FLT3. FLT3 is a very interesting candidate because it actually seems to play a role in immunity. E' un ruolo molto importante questo FLT3 perché sembra avere un ruolo nel sistema immunitario. So it is involved in microglia. Microglia are the cells that play an important role in immune response for our nervous system. And FLT3 helps present environmental cues to these microglial cells. E quindi sono coinvolte le microglia che sono molto importanti perché regolano direttamente la risposta immunitaria nel sistema nervoso. E sembra che l'FLT3 dia dei segnali, dia comunichi a livello ambientale con queste cellule microgliali. Quindi è già stato suggerito che la sindrome di Tourette possa essere collegata con delle infezioni. E in effetti questo gene che è stato identificato, l'FLT3, punta proprio in quella direzione, in una direzione di quella che può essere un'infezione e l'interazione con i geni. So my student, Forti Tessos, followed up this GWAS with a so-called gene set association analysis. Quindi uno studente mio, Forti Tessos, ha seguito questo studio associando il GWAS a un'analisi di associazione di set di geni. Quindi con questa analisi non si vuole identificare l'associazione con un singolo gene, ma un'associazione con interi percorsi genetici che possono essere coinvolti. E ancora una volta, da questa analisi, si è evidenziato un coinvolgimento di geni che hanno a che fare con il sistema immunitario. Quindi queste molecole che hanno a che fare con un sistema di segnalazioni legate al sistema nervoso e alle cellule, ai tessuti, e a quello che è tutto un sistema di sviluppo del sistema nervoso. We are now following up this study and expanding further by adding an additional 15.000 patients and 12.000 controls. Abbiamo espanso questo studio, tanto da coinvolgere altri 1.500 casi e 12.500 controlli. E questo vedete tutti i diversi individui coinvolti nelle diverse regioni che fanno parte di questo studio chiamato M-TICS, vale a dire studio sui TIC multicentrico europeo. E in questo studio siamo riusciti a vedere un preimprinting di 6.000 oltre casi di sindrome di Tourette con una paragona a 13.500 controlli. So the FLT3 region was unfortunately not part of this study. Purtroppo in questo studio non abbiamo esaminato anche la regione del gene FLT3. So we cannot say whether that result is replicated because we did not have the data for that particular region. Per cui non possiamo dire se quel risultato è replicabile perché non abbiamo i dati di quella regione specifica. E abbiamo però riscontrato la presenza di un altro gene che è sempre coinvolto nello sviluppo del sistema nervoso che è il gene NR2F1. E una cosa importante è che le mutazioni di questo gene sono state osservate come significative anche nella patologia dello spettro dell'autismo. So autism spectrum disorder is also part of the so called neurodevelopmental disorder spectrum and a little later on I will talk about the possible correlation across all childhood neurodevelopmental disorders. E i disturbi dello spettro dell'autismo hanno a che fare sempre con i disturbi che hanno relativi a un disturbo di neuroevoluzione per cui poi farò direttamente una connessione tra quelli che sono i disturbi di questo spettro e quella che è l'anomalia nello sviluppo del sistema nervoso. Come potrete forse immaginare come avete visto dalla progressione di quello che vi ho mostrato finora è che la nostra aspirazione è quella di aumentare, incrementare ancora di più il campione, la misura del campione oggetto dei nostri studi. E ci siamo così associati anche agli studi e risultati di altri colleghi che hanno cercato di studiare i geni per altri disturbi psichiatrici. Per esempio questi sono risultati di studi concentrati sulla schizofrenia. E vedete che man mano aumenta la dimensione dei campioni esaminati nel GVAS aumenta anche il numero di hit, come dire di risultati appunto specifici significativi del genoma. E questo ha a che fare con il fatto che dobbiamo gestire delle patologie complesse che hanno un patrimonio genetico molto eterogeneo. E quindi abbiamo bisogno di studi che comprendano un gran numero di pazienti ed è per questo che ci siamo messi in collaborazione anche con gli studi condotti da Scharf e Matthews per riunire più dati e più campioni possibili. So we were awarded a grant by the National Institute of Neurological Disorders and Stroke to bring together every major group working on the genetics of Tourette's Syndrome. Siamo riusciti così a raccogliere campioni di oltre 12.000 casi di pazienti con la sindrome di Tourette. Grazie anche alla sovvenzione che ci viene data dall'Istituto Nazionale di Disturbi Neurologici e di ICTUS per promuovere questi studi che coinvolgano appunto gli studi genetici per identificare le cause della sindrome di Tourette. Quindi quello che stiamo facendo è finalizzato a identificare le variazioni comuni nella sindrome di Tourette. Però ricordate che noi dobbiamo, nello studio dei geni associati alla sindrome di Tourette, dobbiamo identificare le variazioni comuni ma anche le variazioni rare. Ed è per questo che dobbiamo anche condurre degli studi di sequenziamento. Ed è proprio nel 2018 che siamo riusciti a pubblicare lo studio più grande che siamo mai stato pubblicato in collaborazione con Jeremy Wilson e Matthew State. Qui abbiamo examinato i cosiddetti trio, cioè una famiglia ridotta alla coppia genitoriale e al figlio affetto da sindrome di Tourette. E quello che vogliamo studiare in questo punto studio è le nuove mutazioni, mutazioni vale a dire che si verificano nel bambino affetto da sindrome di Tourette, che non sono state ereditate dai genitori. E vediamo che c'è sempre un onere più importante di nuove mutazioni nei bambini affetti da sindrome di Tourette. E abbiamo quindi identificato due geni, cell SR3 e OPA1. che presentano le più elevate mutazioni nei bambini con sindrome di Tourette. E questi hanno a che fare soprattutto nell'influenzare i mitocondri, che sono degli organelli che producono energia nelle cellule. E hanno anche un ruolo nelle connessioni tra diverse cellule. Ho parlato finora delle SNPs, ma ci sono altri tipi di variazione che hanno un ruolo nelle patologie. Per esempio le variazioni del numero di coppie che hanno a che fare con grandi parti del genoma e delle sequenze e che quindi possono interessare un gran numero di coppie all'interno di una popolazione. E nel 2017 abbiamo proprio pubblicato questo CNV scan, una scansione che rappresentava le variazioni nel numero di coppie che avevano a che fare con la sindrome di Tourette. Abbiamo trovato due geni, N-RXN1 e CNTN6, che proprio portavano e rappresentavano queste variazioni nel numero di coppie responsabili della sindrome di Tourette. N-RXN1 ha un ruolo per la creazione delle sinapsi, mentre CNTN6 nella neuroevoluzione. Finora ci siamo concentrati sulla sindrome di Tourette con i sintomi, sulla base di sintomi che hanno a che fare con i tic. Però come ben sapete la sindrome di Tourette è molto più di quello che può essere una manifestazione di tic. In effetti solo il 10% dei pazienti con sindrome di Tourette hanno solo dei tic e il 90% presentano altre comorbidità. Quindi questo ha portato a un po' un'ipotesi intrigante, vale a dire forse non dovremmo concentrarci sui geni che sono causa dei tic, ma valutare e studiare in particolare la sindrome di Tourette in relazione alle altre comorbidità. In effetti la maggioranza delle comorbidità con la sindrome di Tourette sono disturbi sempre del neurosviluppo, dello sviluppo nervoso, vale a dire sindrome da deficit di attenzione piuttosto che la sindrome ossessivo compulsiva. E poi anche se in misura minore c'è una comorbidità con i disturbi dello spettro dell'autismo, disturbi depressivi importanti o disturbi di ansia. E in effetti tutti questi disturbi neorevolutivi dell'infanzia sono effettivamente molto comuni nei soggetti affetti da sindrome di Tourette. E in effetti se valutiamo il co-verificarsi di questi disturbi neorevolutivi in relazione all'età di insorgenza, vediamo che c'è come una sequenza di questi disturbi in funzione dell'età in cui si verificano. È come se fossero attivati diversi interruttori nel corso dello sviluppo neurale. E se vogliamo studiare la sindrome di Tourette in relazione ad altri disturbi neorevolutivi, possiamo sfruttare proprio quegli studi che sono stati pubblicati in relazione a quelle altre particolari patologie neorevolutive. Per esempio questo studio Givas relativo al sindrome ossessivo compulsivo pubblicato nel 2018, dove però non vediamo dei dati significativi da un punto di vista statistico, anche perché lo studio era relativamente piccolo. E questo invece è uno studio Givas relativo ai disturbi da sindrome, soprattutto di deficit, di attenzione. E questo è uno studio molto grande che comprendeva una meta-analisi di 20.000 individui con 35.000 controlli dove sono stati identificati 12 loci significativi a livello di genoma. E invece nel 2019 un altro studio pubblicato relativamente al Givas per i disturbi dello spettro dell'autismo che ha identificato 5 loci significativi a livello di genoma. Quindi possiamo mettere insieme tutti questi Givas per vedere come si correlano l'uno all'altro. In 2018 un studente di large scale integrato data from multiple Givas for psychiatric disease and here in this heat plot you can see all the different genetic correlations. E in questo studio che è stato pubblicato nel 2018, uno studio su larga scala che collegava dati relativi tutti a disturbi neuropsichiatrici come questi si correlavano alla sindrome di Tourette e vedete da questo diagramma come ognuno ha una diversa correlazione genetica. And you can see that already in 2018 it was clear that there is a genetic correlation between Tourette's syndrome, ADHD, major depressive disorder, OCD and to a lesser degree anxiety disorders. E si vede già come neanche nel 2018 c'è questa correlazione genetica tra la sindrome di Tourette, i disturbi da deficit di attenzione, disturbi a livello depressivo, ossessivo compulsivo e in misura minore quelli relativi all'ansia. Questo significa che ci sono alcuni geni specificatamente coinvolti nei disturbi neuropsichiatrici. In 2020 e 2019 a student of mine, C.U. Young, focused on Tourette's syndrome in relation to the most comorbid childhood neurodevelopmental disorder, so ADHD, autism and OCD. E una mia studentessa si è concentrata in uno studio pubblicato poi nel 2021 per ad analizzare quelli che erano le correlazioni tra la sindrome di Tourette, disturbi da deficit di attenzione, disturbi dello spettro dell'autismo e disturbo ossessivo compulsivo. This was a study of more than 120.000 individuals. Uno studio che ha coinvolto più di 120.000 soggetti. She found a broad genetic correlation across all of the disorders that she studied. E ha identificato un'ampia correlazione genetica tra tutte le patologie che ha studiato. And interestingly, an opposite correlation between ADHD and OCD. Ed è interessante perché ha trovato una correlazione opposta tra appunto l'ADHD e l'OCD. So this means that variants that increase risk for ADHD decrease risk for OCD and vice versa. Questo significa che se c'era una variazione che aumentava i casi di OCD ne diminuiva i casi di ADHD e viceversa. She performed a so-called factor analysis to see if there are, if we can understand the architecture of the genetics that are responsible for these different disorders. So she identified three different factors, OCD and Tourette syndrome in one factor. Ha identificato tre diversi fattori che comprendevano in un fattore l'OCD, disturbo sensitivo compulsivo e la sindrome di Tourette. E un altro fattore che invece vedeva la correlazione tra la sindrome di Tourette, ADHD, disturbi dello spettro dell'autismo e disturbi depressivi importanti. This could mean that, at least from a genetic perspective, patients who present with Tourette syndrome and OCD are different than patients who present with Tourette syndrome and ADHD, for instance. Questo significa che da un punto di vista genetico, i pazienti con sindrome di Tourette e OCD sono diversi da quei pazienti che hanno invece, per esempio, oltre alla sindrome di Tourette, disturbi ADHD. This seems intuitively to also make a sense. E questo intuitivamente ha un senso. E innanzitutto è stata ipotizzata la presenza di un asse, per così dire, di impulsività e compulsività. Quindi impulsivismo ha a che fare con dei comportamenti ad alto rischio che non prendono in considerazione le conseguenze di queste condotte. Mentre dall'altra parte il comportamento compulsivo ha a che fare con un comportamento rigido e ripetitivo. E in effetti la sindrome di Tourette sembra trovarsi un po' nel mezzo di questo spettro. What we also found from this cross disorder analysis is that stress may play a very important role in Tourette syndrome, as well as ADHD and autism spectrum disorder. E quello che abbiamo trovato in questa valutazione un po' trasversale tra i diversi disturbi è che un fattore molto importante è lo stress, sia nella sindrome di Tourette, sia nei disturbi di deficit di attenzione, che nei disturbi dello spettro dell'autismo. Quindi radunando tutti questi GWAS, questi studi a livello di genoma, si è riscontrato che i geni appunto identificati hanno un po' tutti a che fare con l'ase ipotalamo. In effetti l'asse HPA ha un ruolo molto importante nella nostra risposta a fattori di stress ambientale, alla produzione di cortisolo in risposta allo stress. Quindi quello che è stato ipotizzato come un fattore scatenante alla sindrome di Tourette, cioè lo stress, trova una conferma anche a livello genetico. Un'altra cosa che possiamo fare con questi studi GWAS è calcolare quello che viene chiamato il punteggio del rischio poligenico. È quello di calcolare una somma dei rischi tra le molteplici varianti genetiche. Quello che si fa con questo score, con questo punteggio del rischio poligenico è quello di vedere se si può associare questi fenotipi genetici anche ad altre varianti. E questo viene chiamato FIWAS. Questi sono dati veramente preliminari che abbiamo appena prodotto e che sono lieta di condividere brevemente con voi. Pritis Jane, a student in my lab, studied data from the UK Biobank on 330,000 individuals. Il collaboratore Pritis Jane ha studiato dati che sono derivati dalla UK Biobank per 33,000 e oltre soggetti europei. E ha calcolato questo score PRS per la sindrome di Tourette e ha cercato di vedere se si correla con altre caratteristiche. Ricordiamo che non è una popolazione di pazienti, ma stiamo parlando di una popolazione generale. Quindi se troviamo delle varianti nel genoma che aumentano il rischio di sindrome di Tourette, queste varianti possono essere correlate ad altre caratteristiche. Per esempio i fenotipi del neuroticismo, del dolore e della depressione. Quindi abbiamo visto che questo rischio genetico relativo alla sindrome di Tourette è molto correlato a neuroticismo, alla depressione. Ma è interessante perché c'è anche una correlazione con la patologia diabetica e cardiologica. Abbiamo visto anche se questo rischio genetico di contrarre la sindrome di Tourette poteva essere associato anche a un rischio genetico relativo ad altri disturbi neuroevolutivi. E poi vediamo ancora una volta che si sono trovate delle correlazioni a livello fenotipico con altre patologie neuroevolutive legate e anche alla depressione, al diabete di tipo 2 e al dolore. Abbiamo visto se c'era anche una correlazione tra il rischio genetico di contrarre la sindrome di Tourette e quelle che erano delle immagini evidenziate con l'imaging cerebrale. So analyzing GWAS and brain MRI data from the UK Biobank, we found a high correlation with putamen volume. Putamen plays an important role in learning and motor control. E abbiamo visto appunto attraverso questa correlazione tra i risultati degli studi GWAS e i risultati di risonanza magnetica cerebrale ottenuti dalla UK Biobank che c'era proprio questa correlazione in particolare con il putame che è direttamente coinvolto nelle fasi di apprendimento e nell'attività motoria. E quindi questo ci porta alla ultima nostra avventura, quella di integrare i dati genetici con i dati del neuroimaging, dell'imaging cerebrale. Enigma è un consorzio che a livello mondiale raccoglie tutti gli studi e le ricerche che si focalizzano in particolare sul ruolo del cervello nelle diverse patologie. E quindi si è visto attraverso la combinazione degli studi da Enigma e gli studi del GWAS della sindrome di Tourette, queste correlazioni che riguardavano la struttura cerebrale, la struttura del putamen e del talamo, il volume del talamo. Ancora una volta delle strutture coinvolte nel controllo delle attività motorie e dell'apprendimento. Ad oggi gli studi di neuroimaging della sindrome di Tourette sono ancora di dimensione limitata, ridotti a una media di 30 pazienti e 30 controlli. E questo significa che è ancora difficile ottenere dei dati che possano essere riproducibili. Abbiamo recentemente costituito il consorzio Enigma-Syndrome di Tourette. E così questo ha portato insieme dei gruppi di ricerca. Abbiamo già 19 sedi che hanno sottoscritto un memorandum of understanding, quindi una lettera di intesi per raccogliere i loro dati e condurre ricerche proprio su questo. E qui vediamo le diverse sedi che sono coinvolte in questo studio. e c'è un richiamo, come dire, aperto a un bando aperto a coinvolgere altri centri di ricerca. E vediamo nell'elenco anche la stessa Renata Rizzo dell'Università di Catania che è molto attiva nella guida di questo gruppo. E con questo vorrei ringraziare tutti i collaboratori che hanno lavorato con me al studio Enigma per la sindrome di Tourette. E anche tutti i colleghi che lavorano con noi sugli studi che coinvolgono l'MTICS. E in particolare Renata Rizzo di Catania, Cardona, Creti e Roazzi da Roma. E vorrei anche ringraziare tutti i colleghi che lavorano con noi sull'altro progetto TS Eurotrain. E ovviamente l'Associazione d'America di Tourette, il Consorzio Internazionale della Genetica. E poi i colleghi che hanno iniziato con me tutto questo progetto che risale al 2008 che sono appunto i colleghi del Southern Eastern Europe Initiative per la genetica della sindrome di Tourette. E poi vorrei ringraziare molti miei studenti perché davvero tutto quello che vi ho mostrato oggi è il risultato anche del loro lavoro. E ringrazio voi per l'attenzione e sarò più che contenta di rispondere alle vostre domande. Bene Elena, passiamo subito alle domande. I test genetici possono essere utili come anticipatori di una diagnosi di Tourette? So the question is, do genetic testing, could they be good in anticipating the onset of Tourette's syndrome? That is eventually the goal, but we are not there yet. Quello è alla fine il nostro scopo ultimo, ma non ci siamo ancora arrivati. Everything that we are doing has the aim to ultimately provide personalized attention to every Tourette's syndrome patient and being able to also predict risk for Tourette's syndrome is a big part of this effort. In effetti tutto quello che noi stiamo facendo, gli studi che stiamo conducendo, sono finalizzati a personalizzare i trattamenti e le cure per i soggetti affetti da sistemi di Tourette e anche per predire e anticipare quella che può essere l'insorgenza di questa sindrome. Ci può essere correlazione con anoressia e bulimia con la Tourette? Could there be a correlation with bulimic disease and anorexia and Tourette's syndrome? So it is very interesting that you mention that we actually have picked up a genetic correlation, but based on epidemiological data we did not expect to find such a genetic correlation. È interessante che lei ponga questa domanda. Non abbiamo ancora identificato questa correlazione genetica, ma sulla base dei dati epidemiologici non ci aspettiamo che ci possa essere una correlazione genetica. Il nonno di mio marito e mio marito hanno sempre avuto tic e mio figlio ha la Tourette. Posso pensare che geneticamente sia stato lui a trasmettere il gene al nostro figlio? È possibile che in genere maschile sia il deputato a trasmettere il gene della Tourette? So my husband and the grandfather of my husband, they both have tics, and now my son has Tourette's syndrome. So the question is, could it be that the male genes are most prone to pass down and to transmit the gene for Tourette's syndrome? Again, this is a very interesting question. So we know that indeed there is a male preponderance in Tourette's syndrome. So there are, in general, Tourette's syndrome is found more frequently in males than in females. Now, why is that? We're still not sure. As part of the studies that we are currently performing, we will indeed be focusing on trying to identify whether genes that have to do with sex are related to Tourette's syndrome risk. È una domanda interessante, effettivamente abbiamo notato che c'è una preponderanza del sesso maschile nella sindrome di Tourette. Non sappiamo però il perché ci possa essere una prevalenza di soggetti maschi con sindrome di Tourette e non siamo ancora sicuri delle ragioni e soprattutto delle basi genetiche, ma i prossimi studi saranno ancora una volta concentrati sul capire e vedere se si può identificare un gene specifico di un sesso che possa trasmettere il gene responsabile della sindrome di Tourette. Sono una donna in gravidanza e ho la Tourette. È possibile fare esami genetici per sapere se mio figlio avrà la Tourette? I am a Tourette's syndrome patient. I am a pregnant woman. Is it possible to do any testing to predict whether my child will be suffering from Tourette's syndrome? Again, we still cannot offer such clinical testing. We are making a lot of progress, but still our results cannot be translated to try to identify risk. We are hoping that soon down the road we will be able to provide such testing, but we are not there yet. Ecco, ancora una volta questo è il nostro obiettivo. Siamo sulla strada giusta, stiamo progredendo, ma non siamo ancora arrivati al punto di fornire uno strumento clinico per predire il rischio di contrarre la sindrome di Tourette. A livello genetico c'è una correlazione importante tra Tourette e autismo? Genetically, is there an important correlation between Tourette's syndrome and autismo? Yes, indeed. As I have shared, there is a high genetic correlation, so it seems that there are many of the same genes involved in risk for autism spectrum disorders and Tourette's syndrome. Sì, come vi ho evidenziato nella mia presentazione, c'è un'alta correlazione, perché vi è un'alta percentuale di geni comuni tra sindrome di Tourette e disturbi dello spettro dell'autismo. In famiglia non abbiamo evidenti ed importanti comportamenti Touretteci. Solo mio figlio manifesta la sindrome. Non riusciamo a dare un senso alla sindrome di mio figlio. Come si spiega? So, the question is, in our family there is no evidence of any signs or symptoms of Tourette's syndrome, and only my son suffers from Tourette's syndrome. How is it possible to explain this? So, like I have shared before, we know that genes play a role. Now, these genes may be passed on by the parents, or they may be new mutations that arise for the first time in the child. So, not all, I mean, we get our genes from our parents, but during the process of development, and even as, you know, we are formed, there are multiple mutations, new mutations, that are only our own. So, this could be one way to explain this, or it could be the case that different environmental factors have also played a role. Certo, i geni della sindrome di Tourette vengono ereditati dai nostri genitori, ma questi geni possono essere anche delle nuove mutazioni che si verificano nel bambino e quindi nel bambino che soffre di Tourette's syndrome si riscontrano queste nuove mutazioni, perché i geni che ereditiamo dai nostri genitori sono comunque soggetti a dei processi di sviluppo, di evoluzione ed ecco che si può formare una nuova mutazione specifica del bambino, oppure può essere anche in relazione ad altri fattori ambientali che hanno favorito il manifestarsi della sindrome e l'espressione di queste nuove mutazioni genetiche. Questa potrebbe essere una spiegazione. Passo alla successiva. Mio marito ha il morbo di Parkinson, mio figlio sindrome di Tourette. C'è correlazione tra le due cose? My husband suffers from a Parkinson's syndrome and my son suffers from Tourette's syndrome. Is there any correlation between the two? Not that we know of, so this is not something, however, that has been studied in detail yet. Non che sappiamo ancora, però è un ambito che non è stato ancora oggetto di studi approfonditi. Se ho capito bene, i geni coinvolti nella Tourette vengono attivati da batteri infettivi? So if I haven't understood well, the genes involved in Tourette's syndrome are triggered by infective bacteria? So we believe that in some cases this may be true. Again, these are only indications at this point, however, a lot of our genetic findings seem to involve the immune system. In alcuni casi può essere vero. Ci sono delle indicazioni che sulla base di quelli che sono stati i nostri studi genetici associano la sindrome di Tourette effettivamente al sistema immunitario, quindi questa correlazione e questo collegamento con il sistema immunitario e episodi infettivi. Bene, concludiamo con l'ultima domanda. Ad oggi possiamo solo tenere a bada la sintomatologia. Possiamo sperare in un futuro, in una cura della sindrome di Tourette? The last question is, as of today we can only control the symptoms. Could we hope for the future to have a cure or treatment for Tourette's syndrome? This is, you know, the main reason we are doing all of this and all genetic studies ultimately hope to identify targets for the development of new therapies. This is our main motivation. And again, I would like to thank all the patients and the families for contributing to these studies. E questa è effettivamente la ragione ultima per cui noi conduciamo tutte queste ricerche, questi studi, quello di trovare dei target che possono aiutarci a sviluppare delle nuove terapie. Per questo motivo ringrazio come sempre tutti i pazienti, tutte le famiglie che ci aiutano a condurre questi studi per arrivare al fine ultimo, che è quello di trovare delle terapie efficace per la sindrome di Tourette. Siamo arrivati alle conclusioni di questo evento formativo ed informativo. So we're now at the conclusion of this training and informative webinar. AIST ONLUS ringrazia tutti voi per la partecipazione. So AIST ONLUS thanks all of you for the participation. Grazie alla professoressa Pasciù per la sua collaborazione con solita disponibilità. And we'd like to thank professor Prisera Pasciù for her availability and for her honourable participation. E grazie alla dottoressa Elena Lodolini per la sua professionalità. And thank you to Elena for her help. Buona serata a tutti. Grazie. Good evening to everybody. Thank you everybody. Thank you Elena very much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. It was an honour. Bye bye. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci.